A poche ore dalle elezioni amministrative di Corigliano Rossano, la Confcommercio Calabria ha espresso con forza le proprie aspettative e richieste nei confronti del futuro sindaco. Il presidente Klaus Algeri ha delineato le sfide e le necessità di una città che a suo avviso necessita di una visione chiara e strategica per emergere come leader nella regione Calabria. Principalmente il candidato a sindaco, il futuro sicuro, deve avere una visione di questa nuova città. È una città che è stata messa insieme, un po' forse sbagliando negli anni passati. In questo modo noi dobbiamo prendere da quello che in realtà è una cosa negativa in qualche modo e fanno un grande successo di una città. Appare limitativo parlare di terza città della Calabria se a questo non si accompagna un progetto di rilancio. La città bisogna avere una visione, bisogna avere un pensiero di come volerla realizzare. Non si basa soltanto in base agli umani abitanti dicendo che siamo la terza città della Calabria e il mondo può essere anche la prima città della Calabria. Quindi lì ci vuole la buona politica che abbia una visione. Una visione che è con difficoltà. Chi vincerà questa elezione da una parte o dall'altra avrà delle difficoltà perché mettere insieme i servizi comuni, una città così grande, un territorio così enorme con le tante frazioni che ci sono, non le voglio chiamare preferie, non è un compito facile. Anche il fatto di, come ha detto qualche dirigente, in qualche modo bisogna viaggiare all'interno di questa città che ancora in realtà non si sta facendo. Quindi avere una visione di una città unica. Indicare una prospettiva tale da facilitare l'armonizzazione delle diverse aree urbane e migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini.